Il tema della transizione verde è anche questo, quindi anche questo andrà ricalibrato in maniera pragmatica. Ho sentito oggi Draghi al Senato e colgo con favore il fatto che l'Italia in questo momento abbia deciso di tornare a investire sul gas come fonte energetica di transizione. Anche questo l'ho ricordato in aula, l'Europa è un continente povero di energia ma non povero di fonti energetiche. Noi abbiamo scelto di non utilizzare certe fonti che avevamo e di prenderle da fuori e quindi di renderci dipendenti. Spero che serva da lezione per il futuro e che non ci troviamo a commettere gli stessi errori e tra qualche anno dover fare gli stessi discorsi di fronte a una nuova crisi di qualsiasi tipo con un regime come la Cina.